Proviene da una famiglia di teatro. Il bisnonno Michele Montesano con il fratello Achille Montesano crearono a Roma una compagnia di operette, mentre il nonno Enrico fu un noto direttore d'orchestra della capitale. Da ciò comincia subito a interessarsi al mondo della recitazione. Montesano debutta teatro nel 1966 nello spettacolo Umor Nero, al fianco di Vittorio Mez nel piccolo teatro Goldoni. Come imitatore, nella stagione successiva, 1967-1968, con la collaborazione di Leone Mancini, inizia la sua attività di cabaret al PUF noto cabaret della capitale. Il debutto in televisione porta la firma di Castellano e Pipolo e si intitola Che Domenica Amici. Varietà che va in onda nel 1968 per la regia di Vito Molinari condotto da Raffaele Pisu. L'attività teatrale prosegue parallelamente a quella televisiva, con la stagione De Il Bagaglino, ospite fisso insieme a Gabriella Ferri nello spettacolo Tiette e la Cica, verso la fine degli anni 60. È proprio qui che inizia un sodalizio artistico con la Ferri, che lo porterà nel 1970 ad essere uno dei conduttori del programma musicale Senza Rete e nello stesso anno in gara a un disco per l'estate. Mentre nel 1971 torna a teatro con Homo Kras, sempre nel 1968 debutta anche in radio col programma Gran Varietà, al quale seguirà il più personale Felice Allegria, nel quale interpreta uno dei suoi personaggi più apprezzati, quello del timido e impacciato monimo del titolo del programma. Due anni dopo è conduttore di una puntata di Senza Rete. Nel 1972 incide anche il suo primo 45 giri Fortuna sì. Fortuna no grazie a Guido e Maurizio De Angelis, che riscuote discreto successo, seguito poi dal più fortunato a me tu piaci te della Cinevox. Tuttavia l'esperienza canora ama rimarrà comunque un'attività marginale della sua lunga carriera. Sì. Grazie a tutti.